e vabbè si riproviamo oggi ragazzi siamo qui con questo video che ho avuto da un amico dei doppioni che lui ha trovato nei pacchetti e visto che lui li aveva appunto mi ha dati e oggi andremo a vedere quali sono questi doppioni che lui mi ha dato e iniziamo allora iniziamo da paolo speriamo di trovare qualcuno buono diciamo come se fosse uno spacchettamento io non so ancora niente che rango un attimo solo che devo mettere la lucebbine ok abbiamo paolo allora da un attimo ok perfetto ora abbiamo paolo fonsica allenatore della roma che abbiamo gian giacomo magnani ilic poi abbiamo di marco questo è buono attenzione poi abbiamo la maglia dell'ella sverona bella mi sa che ce l'ho raga luis felipe del di cui si chiama della lazio poi abbiamo lulli ulice lazio poi abbiamo giochi in correa della lazio poi abbiamo attenzione giro immobile e andiamo abbiamo ciruzzi immobile che raga ma era introvabile e introvabile questa cosa e quindi abbiamo ciri immobile ragazzi buono poi abbiamo jacopo sala dello spezia poi abbiamo pobega dello spezia poi abbiamo verde dello spezia poi abbiamo bartolome dello spezia poi abbiamo attenzione lukic dello si del torino poi abbiamo marco giampaolo che è stato esonerato dal torino poi abbiamo la scuola intera della fiorentina pulgar della fiorentina caseres però la maglia dell'inter attenzione la maglia dell'inter poi abbiamo attenzione lukaku che abbiamo già a non trovato poi abbiamo attenzione samira andanovic godo 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 samira andanovic del dell'inter poi abbiamo vidal del dell'inter che abbiamo a kimi dell'inter marco sportiello dell'inter marco sportiello della del dell'atalanta dei paoli dell'atalanta lo stanno scrivendo tutti cosens dell'atalanta to lui dell'atalanta che questo lammers squadra tanta intera a te burr froiler di nuovo lammers non c'è la juve vediamo chi starà della juve ventancur e abbiamo alvaro morata e l'abbiamo bernardeschi non so se ce l'abbiamo mckenny e ce l'abbiamo perfetto tantissimo abbiamo nicoloro vella bani piazza crescito pelligrini ora abbiamo il napoli ti prego in signe elmas ospina quiboli e niente soriano palacio milanovic da costa poli santander svanberg caprari foulon letizia falche pippo in zaidi glick buono claudio ranieri tonnelli candreva regini bene in sischi ec dal augello attenzione milan auge ti prego ibra ti prego ibra salemakers la maglia del milan cialanoglu chier teo hernandez raffaello leao parma grassi bonifazi andragora scuffette teraves niente di che vabbè nel crotone gli schippiamo rogo scudetto onas squadra di nuovo ma chi richesse un d'urciccio caputo pegolo muldur se le bisnevi 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 abbiamo tutta serie b ma non fare perché i sogni diventi omossessioni allora abbiamo lo scuoto le porderone pescara venezia pisa cosenza cremonese cittadella reggiana abbiamo salmo ermal meta mogol tutti gli album le coppe femminili ok scuoto la serie c giochi voi femminile sarebbe parma parma di nuovo l'inter inter qui voi lazio di moci immobile linetti e maio ral davvero ragazzi questi sono i doppioni chi ci ha dato e ragazzi spero che questo video mi sia piaciuto bella